Ho scoperto qua che... Gallo di Schurler! All'ottavo. All'ottavo. E' piccolo, conoscemi sempre il padronico di Lugurico. Ah, è scoperto. Un pochino di cuore. Uno. La spalla è restata qua. È un aspetto. Sì, è restata qua. Molto. Lo lo sapevo, è un cuore. Sì. No, questa è quella di cuore che è la spalla. La spalla è la spalla, la spalla è la spalla. Dammi la distanza qui. Batto con l'otto. Piederemo due di questi. Piederemo, apprezzo. Già piegare qui sotto. Posso girare, no? Puoi girare e puoi anche segnare la posizione. Cioè, da lì potete... Come è il contempo, potete... Guarda lì, sarebbe passato in un angolo, lo diamo andrò fuori. Sì. Allora. Uno. Dicevo, questa è la custodiscire per la chiamata la placetta. Sì, certo. Adesso, scusate, ma stavo tirando. Ah, ok. Poi dopo devi rimanere, almeno uno devi rimanere perché c'è un altro per te da pesare. Che devo giocare io. La San Pedroio. La San Pedroio. Ma andiamo a sedere a San Pedroio. Non avanza. Questa, presto. Va bene, ragazzi, sentiamo un'anima qui. Ciao. Ti mando tutta questa roba scelta. Ciao, ciao. 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 Sempre pronto nel... Sì, siete. Tre. 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 Grazie. 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 Il raddoppio del Borussia. Grazie. Grazie. Comunità. Comune del Borussia. Qua la va anche benne. Comunità. Qua? Come c'è? Per me. Uno, tre, due. il tempo completamente negativo per il Manchester ma sappiamo che basta un episodio se la tocco sto in fuorigioco? si se la tocco con lui adesso? con lui si è ancora in fuorigioco no, sta dietro la linea della palla sta dietro la linea della palla vabbè si devo fare io? si posizione delle Borussia 2-0 Borussia 2 sono girato mamma mia mamma mia è il terzo gol del Borussia che non si ferma 29 e il match si è incappato una serraccia presa presa un'allenatore del Manchester che ce l'ha con i suoi che non riescono a inserire nel loro gioco anteriore fine che bello che bello Grazie.